Adesso devo andare dal medico, però quel medico non mi dà affidamento, mi dà due o tre pillole, si calma per un pochino, non è che si toglie, si calma per un po' e sto a punto e a capo. Ma io come devo fare? Io non lo so, mal di pancia, la pancia è come un tamburo, dura come i sassi e non mi viene da scorreggiare, poche scorreggie perché anche se mi vengono tante scorreggie è ancora peggio perché dopo due e tre giorni mi incomincio a prendere qualche corrido.